Ad una settimana esatta dall'inizio della Final 8, la Scandone è in emergenza. La squadra di Sacripanti fatica a trovare continuità in allenamento, dove sono quasi più gli assenti dei presenti. Oltre Marco Cusin, out per via dell'infortunio alla mano, preoccupano Ragland e Fesenco. Il primo non ha ancora ripreso gli allenamenti con i compagni, mentre il secondo deve centellinare le energie ed è stato colpito da un virus influenzare, che nella giornata di mercoledì non ha permesso al giocatore di allenarsi. E così Sacripanti ha dovuto inventarsi una seduta di allenamento nella quale i pivot erano assenti. Il tecnico chiede un centro ad Alberani, ma sul mercato c'è davvero poco. E l'unico a piacere veramente al coach della Scandone è David Anderson. L'esperto giocatore australiano è in forza al Melbourne ed è a caccia della qualificazione a playoff. Vederlo con la maglia della Sidiga se è possibile, ma soltanto se non ci sarà la qualificazione. Si dovrà anche capire se Anderson sarà disposto ad accettare un ruolo di sparring partner. E poi c'è Logan, o forse sarebbe meglio dire Cera. L'americano ieri ha vinto con il suo retuos Ritas il match di Coppa contro lo Zenit, ma non si è qualificato per via della differenza Canistri. A nulla sono valsi i suoi 28 punti se non rafforzare l'idea del club lituano di quanto i loro giocatori sia importante. Il tecnico Pasesas ha voluto ringraziare l'atleta per l'impegno profuso, mentre il giocatore, che verrebbe in Irpinia, non può essere libero di scegliere. Il contratto che lo liga lituos durerà fino al termine della stagione. La decisione quindi spetta alla club che difficilmente si preverà a questo punto del giocatore, anche dietro il pagamento di un corposo buyout. Se non arriverà il bomber americano, la scandone non inserirà alcun elemento nel roster, almeno per il momento. Insomma, sembra che i sogni siano destinati a rimanere semplici desideri.